C'è da vergognarsi a dover rispettare un uomo come quell'onorevole Calderara Pensare che solo dieci anni fa avremmo fatto finta di essere miopi per non rispondere al suo saluto Animale E che forza, che complessione che ha E' come un soldato in libera uscita Per questo l'avrei fatto anch'io Ma io mi sono subito accorto di una cosa Che quell'animale non vedeva per niente Escluso te, quelle donne ci disprezzavano Davvero Nanda ha detto di no all'onorevole in un modo che le avrei baciato i piedi A me ha detto che darebbe dieci anni della sua vita per andare una notte con il mio amico sottosegretario Non c'è più nulla da sperare, io mi sono rassegnato Ah si Anzi, ti sarei grato se tu potessi farmi un grosso favore Ma Antonio, mi stai ascoltando? Scusa, a che favore dico? Ho visto che l'onorevole Calderara ti ha preso a benvolere Beh, senti, perché non glielo dici tu di trovarmi un lavoro? Io ho bisogno di lavorare Non sono più un ragazzo